6 buste, numerate dall'1 al 6 solo una di queste 6 buste contiene 100€ questo è un dado, tiene il dado lancia perché avrai 5 possibilità per trovare i 100€ se li troverai, la banconata sarà tua io non farò niente, incrocerai anche le braccia farai tutto te, vai! 7! che sfortuna! riprova! sono rimaste solo 2 buste 50% di possibilità lancia il dado, vai! 5! attenzione no, prova ancora beh, prendi la 4 e vediamo e infatti nella busta 4 c'erano le mie 100€ no! no! Grazie a tutti.